Un anno di rinascita, un anno con tante nuove opportunità per le piccole e medie imprese, soprattutto per le piccole imprese artigiane che rappresentano questa ossatura fondamentale del nostro territorio. Sì, i numeri li abbiamo già detti alcune settimane fa, hanno evidenziato un aumento del PIL importante in Italia in questo ultimo periodo, questo ci dà fiducia in quello che sarà un 2023, sicuramente ci auguriamo migliore almeno di quello che è stato un 2022, che soprattutto con la guerra in Ucraina, con il problema delle energie e di questi prezzi impazziti, ha segnato sicuramente un anno difficile per le nostre imprese. Un anno che comunque ha visto confartigianato Cuneo a fianco delle nostre imprese, ma soprattutto un'associazione di categorie che vuole continuare a investire su processi digitali, su processi di accompagnamento, perché riteniamo che queste sono le sfide che ci permetteranno di vincere insieme alle nostre imprese, proprio per essere più competitivi nei prossimi anni. Ci sono dei progetti di confartigianato che si svilupperanno proprio nell'ambito del 2023, progetti che vanno verso una formazione più consulenziale dell'associazione. Sì, noi riteniamo che la consulenza, l'accompagnamento alle imprese sia l'arma vincente per un'associazione di categoria, come è associazione confartigianato Cuneo, per essere accanto ai nostri imprenditori, accanto alle nostre imprese, per cercare di aiutarli a vincere le sfide del domani. Un'associazione di categoria può dirsi soddisfatta nel momento in cui riesce, perché è formata, perché ha investito, perché ha analizzato i cambiamenti, ad accompagnare un'impresa per farle vincere le sfide sul mercato, le sfide su tantissimi settori, che saranno i settori fondamentali e trainanti nei prossimi anni. Un valore importante dell'associazione è quello di essere molto radicata sul territorio e soprattutto di avere buona rete di collegamento con gli altri attori territoriali. Uno di questi sono le banche. Sicuramente con le banche stiamo lavorando in maniera importante, non solo per quello che è stato un rapporto stretto legato ai bonus casa, ma con loro stiamo portando avanti un'attività sempre più stretta per portare i servizi bancari all'interno di quelli che saranno i servizi che Confartigianato Cuno metterà a disposizione sul proprio portale, sull'impresa digitale. E proprio con loro vogliamo sviluppare un servizio per rendere ancora di più la vita semplice e facile agli imprenditori, per tenere costantemente sotto controllo conti e numeri. Insomma, un modo nuovo, diverso, guardando al futuro, per cercare di dare slancio a quella che deve essere l'attività di consulenza, di accompagnamento e sindacale di un'associazione di categoria come Confartigianato Cuneo. Si è partiti dal dire l'impresa al centro dell'attività dell'associazione. Oggi si parla di persone al centro dell'attività associativa. Sicuramente. Oggi, nell'incontro che abbiamo avuto, abbiamo ribadito che sono comunque le persone che possono fare la differenza. Saranno le persone all'interno delle nostre aziende, saranno le persone all'interno di un'associazione di categoria che, attraverso degli strumenti indicati, giusti, all'avanguardia, possono veramente permettersi di dare quel risultato, quel qui di in più alle aziende, all'associazione, per essere attivi, per essere pronti a vincere le sfide che dicevamo prima, per cercare di continuare a difendere quel made in granda, quel made in cuneo che in tanti ci invidiano. In chiusura, Presidente, un augurio per questo 2023. Un augurio sicuramente per avere un anno nuovo con una guerra alle spalle, con tanti problemi che abbiamo visto superati. Un augurio soprattutto a quei nostri colleghi, a quei tanti colleghi che tra mille difficoltà continuano a investire, che continuano a voler rendere grande questo territorio, cercando di utilizzare gli strumenti che vengono messi a loro disposizione, e tra questi anche quelli di Compartigianato Cuneo, che continuerà in perterita a seguire tutte le imprese di questo territorio.